Marostica, città cosmopolita, dopo gli anni della pandemia è il record di turisti e soprattutto di visitatori stranieri. Abbiamo visto via via un aumento di turismo internazionale, molti tedeschi, in questi giorni moltissime compagnie di francesi, olandesi e attendiamo i grandi eventi qui di settembre, oltre a Pretescacchi e anche Boccelli, per vedere ancora più il turista internazionale. Una flessione si registra invece sul fronte del turismo russo, ma i dati complessivi sono e restano da primato, anche quando si parla di struttura alberghiere. Un grosso aiuto a tutto quello che è il comparto degli albergatori, l'abbiamo dato con i concerti estivi e i grandi eventi. Ora per la partita Scacchi ci aspettiamo tutto esaurito. Una città insomma da tutto esaurito, tranne il fascino, perché come ci raccontano i turisti, quello a Marostica non finisce mai. Sto trovando qualcosa di eccellente, mai visto. Quindi colpiti, colpo di fulmine per Marostica. Sì, io e mia moglie ho colpo di fulmine per Marostica. Bellissima, molto curata, storica, una bella impressione, molto pulita, molto accogliente. Una piazza tirata lucido nel vero senso della parola. Tirata lucido nel vero senso della parola, stamattina alle 4 eravamo 25 volontari e abbiamo pulito piazza e castello in preparazione della partita Scacchi. Pensavo che tra Bassano e Marostica non ci fosse la ciclabile, invece ho scoperto che stanno investendo bene anche per quello che è il turismo green, quindi in bicicletta, e c'è una bella pista ciclabile. Non ci sono problemi per chi insomma viene a far visita alla città anche con il proprio animale. Esatto, sì sì. No, è tutta attrezzata anche, quindi è perfetto.